Cabinieri a Ravagnese di Reggio Calabria, a conclusione di una serrata attività di indagine, hanno arrestato in fragranza di reato RA Regino 64enne sposato allevatore per tentato omicidio del figlio. Nello specifico, sabato scorso, in tarda serata, i militari del pronto intervento sono recati presso il pronto soccorso del grande ospedale metropolitano, dove era stata segnalata la presenza di un ragazzo, accompagnato da un amico e dalla compagna, con una vistosa ferita da taglio all'altezza del torace, che a suo dire si era procurato fortuitamente mentre lavorava e che a causa della notevole perdita ematica necessitava di un immediato ricovero proprio per essere sottoposto alle dovute cure e stabilizzarne così le condizioni di salute. Fin da subito il racconto del giovane non era parso convincente ai militari del nucleo operativo della compagnia di Reggio Calabria, che si sono subito attivati nel compimento degli accertamenti del caso per raggiungere la verità dei fatti. Il quadro iniziario, emerso in poco tempo e rassegnato alla procura della Repubblica di Reggio, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, già da un primo sovralluogo effettuato sul posto, indicato dalla vittima, aveva permesso di avere una visione pressoché chiara dell'evento. Lo scenario, le diverse tracce ematiche rinvenute sulla scena, tra cui una giacca sporca di sangue appartenente al padre, l'alma da taglio ritrovata, nella fattispecie era un coltello di macellazione, anche lui intriso di sangue, non lasciavano dubbi su una colluttazione avvenuta proprio lì. Sul posto i carabinieri specializzati del nucleo investigativo di Reggio, addetti ai rilievi tecnici, il cui supporto è mostrato fondamentale per l'analisi e la cristallizzazione della scena del crimine. Importanti sono state successive risultanze scaturite dalla tentatività di analisi e confronto delle varie deposizioni contrastanti tra i familiari della vittima e diversi testimoni condotti dai militari dell'arma sotto la costante direzione del procuratore aggiunto Giaro Dominiani e dal sostituto procuratore della Repubblica Nunzio Di Salvo, che hanno permesso infine di ricondurre la responsabilità dell'evento criminoso al padre del ragazzo, il quale probabilmente, a seguito di uno scontro con il figlio, per futili motivi, lo ha poi aggredito con un fendente da coltello, arrivato dritto al petto determinandole quella grave ferita riscontrata sul ragazzo al lato del suo ricovero ospedaliero.